ciao a tutti oggi vediamo come realizzare questo scialle all'uncinetto con un punto molto molto semplice da lavorare vediamo come realizzarlo per realizzare questo progetto ho utilizzato due cake del cotone milù per la precisione è il colore numero 10 ma ce ne sono tante altre colorazioni ho lavorato con un uncinetto numero 3 e vediamo come realizzarlo ho iniziato prendendo il capo dall'interno scegliendo quindi iniziando dal colore più chiaro non dal fuzio da quello interno iniziamo lavorando 6 catenelle facciamo il cappietto più 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 poi andiamo a lavorare una maglia alta sulla quarta catenella quindi 1 2 3 4 lavoriamo una maglia alta adesso lavoriamo una catenella e lavoriamo una maglia alta sull'ultima catenella quindi ne saltiamo una catenella e sull'ultima ci lavoriamo una maglia alta abbiamo fatto il primo quadratino ok adesso lavoro 6 catenelle e vado a lavorare una maglia alta sulla quarta catenella adesso lavoro una catenella e mi aggancio sull'ultima catenella che ho lavoro una maglia alta poi mi aggancio adesso vedete che mi trovo il primo quadratino in verticale mi devo agganciare in questo punto dentro questo archettino che dove ho praticamente la maglia alta e qui le 3 catenelle che avevo fatto all'inizio quindi infilo l'uncinetto qui e lavoro una maglia bassissima ok adesso vado a lavorare il secondo il terzo quadratino totale e il secondo del giro quindi lavoro 3 catenelle poi lavoro sempre in questo archettino una maglia alta lavoro una catenella e poi in questo punto di giunzione alla fine lavoro una maglia alta e ho terminato la seconda riga vedete che si forma una v questo è il primo sono gli altri due ora giro il lavoro di nuovo e lavoro il primo quadratino che viene fatto sempre nello stesso modo per girare con 6 catenelle 4 5 6 lavoro sempre sulla quarta catenella quindi 1 2 3 4 sulla quarta lavoro una maglia alta poi lavoro una catenella e sull'ultima catenella che ho sotto lavoro una maglia alta e mi aggancio all'archettino che mi trovo di fianco che è in questo punto e chiudo con la maglia bassissima ora questo è il primo quadratino che devo fare ogni volta che giro il lavoro poi i quadratini successivi si lavorano tutti quanti in questo modo come abbiamo visto nel giro precedente lavoro 3 catenelle poi lavoro una maglia alta in questo punto lavoro una catenella e alla fine lavoro un'altra maglia alta e mi vado ad agganciare sempre nel quadratino che mi trovo di fianco messo però diciamo al contrario e mi aggancio in questo punto con la maglia bassissima e da qui riprendo quindi 3 catenelle maglia alta e poi mi aggancio normalmente mi aggancerei qui mi andrei sotto ma essendo l'ultimo punto mi aggancio in questo incrocio questo punto infilio il cincinetto e lavoro la maglia alta e di nuovo vado a girare il lavoro quindi lo schema che si ripete poi è sempre lo stesso quindi il primo quadratino con 6 catenelle poi gli altri tutti con 3 diciamo vi faccio vedere l'ultimo l'ultima riga e poi vi lascio che potete andare tranquillamente avanti da sola aumentando per quanto vi serve insomma quindi lavoro 6 catenelle una maglia alta sulla quarta catenella una catenella e sull'ultima catenella una maglia alta mi aggancio e lavoro 3 catenelle una maglia alta una catenella e di nuovo un'altra maglia alta poi mi aggancio al solito archettino maglia bassissima lavoro ancora 3 catenelle una maglia alta una catenella una catenella e di nuovo una maglia alta mi aggancio maglia bassissima e vado a fare l'ultimo quadratino della rega 1,2,3 maglia alta catenella e una maglia alta sull'ultima sull'ultimo incrocio ed ecco qua è molto molto semplice e anche molto veloce diciamo da realizzare come punto quindi è ideale per realizzare il nostro scelle ed ecco qua terminato ho fatto tantissimi giri ho utilizzato interamente tutte e due le cake del cotone Milù e questo è il risultato che ve ne pare a me è piaciuto moltissimo è morbido è veramente veramente bello sono bellissimi i colori ok anche questo video è terminato spero vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo ciao a tutti